I tre nemici invisibili della casa è l'ultimo punto che voglio affrontare con te. Il primo è il gas radon che è un gas naturale che è presente nel terreno, variabile a seconda da zona a zona e che è la seconda causa di morte per tumore ai polmoni, quindi un gas pericolosissimo, non odore, incolore, molto pericoloso per la salute. Ora ti spiego come gestire questa cosa. Poi c'è la formaldele che è un materiale cancerogeno presente in alcuni materiali e poi ci sono i campi elettromagnetici. Dove possiamo trovare questi nemici invisibili? Il gas radon lo troviamo ai piani bassi, quindi nelle cantine, negli interrati e nei semi interrati, ma anche ai piani terra. Quindi se io ho un piano terra, ho la camera in un piano terra, ho il soggiorno, bisogna che io mi preoccupi se il gas radon è presente. E quindi ci sono degli strumenti per misurare questo. Poi la formaldele dove è presente? È presente nelle vernici, negli arredi, nei materiali da costruzione. E anche qui bisogna stare attenti e capire come difendersi, cioè chiedere le schede di sicurezza e sincerarsi che i materiali che compongono i nostri arredi o le tinte delle nostre pareti, non contengono formaldeide. Perché? Perché questo è un materiale riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come cancerogeno. Quindi siccome lo respiriamo tutti i giorni, è importante prendersene cura. I campi elettromagnetici, soprattutto nella camera da letto e in altri locali dove soggiorniamo più spesso, è importante che siano limitati o schermati al massimo. Vediamo come difendersi per esempio dal gas radon. Questo è un esempio di un progetto che ho realizzato dove al piano terra cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato quello che si chiama un solaio areato, perché il fatto di avere l'area che circola sotto il pavimento del piano terra fa sì che in qualche modo non solo migliora il comfort della casa perché si riduce anche l'umidità, ma perché circola l'area sotto e quindi favorisce anche una migliore gestione della temperatura e dell'umidità, ma indirettamente, anzi è importante per il gas radon, il gas radon praticamente non arriva a contatto con la casa perché questa zona filtro con le bocchette ai muri fa sì che il gas venga liberato verso l'esterno. Quindi è importantissimo far sì che ci sia una reazione ai piani terra. Ripeto, questo va bene sempre anche in un garage o in una rimessa, ma soprattutto a noi ci interessa la camera, il soggiorno, la cucina, i luoghi dove soggiorniamo e passiamo più tempo. Quindi la reazione, ma anche una reazione dei locali, cioè basta aprire le finestre o per esempio mettere degli impianti di ventilazione meccanica controllata che fanno sì che l'area circoli e quindi si mantiene pulita l'area all'interno dell'ambiente. La formaldeide invece è un composto organico volatile che si chiama appunto bocchette ed è una sostanza cancerogena per l'uomo, questo da fonti, l'Associazione Italiana Ricerca del Cancro e cosa possiamo fare, cosa puoi fare per sincerarti che gli arredi o comunque i materiali all'interno della costruzione, all'interno dell'autocasa non contengono queste sostanze. bisogna assicurarsi attraverso i certificati, le schede di sicurezza che i materiali che contengono le vernici o le tinte delle pareti, le vernici degli arredi, siano certificati formaldeide free. E poi un'altra questione è sempre di areare il più possibile gli ambienti perché una buona reazione degli ambienti in qualche modo mitica questo effetto negativo. Questo per esempio è la foto di un nostro cantiere dove abbiamo utilizzato per esempio calci naturali come entonaco a base di zeolite, pozzolaniche, sabbie scelte, quindi materiali certificati, traspiranti che eliminano anche il problema dell'umidità delle muffe, antimuffa quindi, e tinte naturali per esempio ai silicati di calce che è un ottimo materiale che fa sì che innanzitutto il muro respira ma in più che sono composti da materiali assolutamente naturali, quindi componenti materiali, quindi senza componenti chimiche nocive per la nostra salute. Un altro piccolo segreto che ti voglio svelare è che esistono delle piante che fanno sì che praticamente riducono l'effetto negativo, assorbono la forma eldeide e quindi questo è sicuramente un altro trucco da poter utilizzare. Una cosa però ti voglio dire per le piante in casa ok nel soggiorno, ok nella cucina, ok nell'ingresso ma assolutamente vietato nella camera perché? Perché durante la notte le piante rilasciano le diete carboniche e questo siccome già noi lo facciamo poi l'ambiente si può saturare della diete carbonica e non ci fa riposare bene. Ma un altro tema che sta a cuore a molti di noi è proprio legato ai campi elettromagnetici. I campi elettromagnetici si dividono in due categorie. La prima sono i campi elettromagnetici naturali, nodi di Curry, nodi di Hartmann, acque sotterranee, tutto questo, come vedete questo è uno schema di un'analisi che abbiamo fatto nel nostro progetto dove esiste un reticolo il primo nodi di Curry studiati da un ingegnere che si chiamava appunto Curry, un altro Hartmann che hanno un reticolo, una maglia 2x2,5x4,5x4,5x4 che è presente nel terreno ovunque. Qual è la questione? Di cercare di evitare i punti come vediamo qui in questa immagine dove ci sono dei nodi critici cioè dove si intrecciano queste due reti in un punto che appunto si chiamano nodi e che se questo cade per esempio proprio esattamente nel nostro letto bisogna studiare qualcosa per schermare questi effetti come anche le acque sotterranee perché le acque sotterranee sono nocibe alla salute? Perché lo sfregamento delle particelle d'acqua con il terreno crea un campo elettromagnetico che è non in sintonia con il nostro e questo crea stanchezza, stress, disturbi del sonno e altre problematiche, ma una cosa che possiamo fare tutti è quella di capire quali sono i campi elettromagnetici artificiali cioè quelli legati alle tecnologie, agli strumenti utilizzati dall'uomo e creati dall'uomo che si dividono in alte frequenze e basse frequenze quindi dai tralicci dell'Enel che se sono troppo vicini a casa chiaramente possono creare dei problemi e lì bisogna studiare e chiamare degli esperti per capire come schermare questi effetti negativi nella nostra casa all'utilizzo degli elettrodomestici che purtroppo o per fortuna da una parte facilitano e diciamo migliorano la nostra vita quotidiana dall'altra possono creare degli elementi di disturbo quindi adesso ti dico quali sono dei tre consigli pratici soprattutto per la camera da letto per ridurre al minimo questi effetti negativi il primo consiglio che mi sento di darti è quello di lasciare fuori dalla camera da letto tv, computer, router, modem, wifi, cordless, radiosveglie, cellulari soprattutto durante la notte tutte queste cose devono essere o spente o almeno a 4-5 metri io il mio cellulare lo tengo all'ingresso la camera nostra è dalla parte opposta quindi assolutamente questi oggetti devono stare lontano dalla nostra camera ma mi sento di dirti che un altro consiglio è l'utilizzo anche nelle ore preliminari al sonno ridurre anche l'utilizzo delle ore preliminari al sonno per esempio di televisione, computer perché? Perché in qualche modo la visione di uno schermo che sia un computer, una televisione o un cellulare in qualche modo interagisce con il nostro con il nostro, con la nostra energia e in qualche modo attiva la nostra attenzione, il nostro cervello quindi esattamente l'opposto di quello che dovrebbe succedere le ore preliminari al sonno bisognerebbe già ridurre le luci magari ascoltare una musica tranquilla e io consiglio sempre di di tornare un po' all'antico cioè prima dell'avvento della televisione negli anni 50 le persone si ritrovavano i contadini per raccontare le storie e in qualche modo il consiglio che mi sento sempre di dare è di cercare di ritornare un po' a questo a questo vivere diciamo più in sintonia con la nostra natura e con la natura intorno a noi evitare la posizione del letto con la testata che dà su una parete dove c'è il frigorifero che tra un po' il frigorifero questo non si può spengere quindi o comunque se proprio siamo in questa situazione cercare di piuttosto che un tramezzo quindi una parete fine mettere un muro più grosso qualcosa che schermi un po' di più ed evitare di dormire con coperte elettriche in funzione di tenere accesi inutili e ulteriori apparecchi elettrici ci sono domande? ok quindi a questo punto andiamo a concludere e quello che la frase con cui mi piace lasciarti è questa che la felicità è una scelta che inizia dentro ognuno di noi quindi in qualche modo la felicità non è qualcosa che viene dall'esterno viene da noi stessi dalle nostre decisioni da come decidiamo per trascorrere il nostro tempo con quali persone vogliamo condividere il nostro spazio una una riflessione che stavo facendo dopo questo periodo di quarantena guardandomi allo specchio è guardarsi allo specchio e farsi qualche domanda tipo sono veramente felice di quello che ho oggi della casa che ho delle persone con cui condivido il mio spazio delle mie amicizie del mio lavoro ti assicuro che già farsi una domanda di questo tipo crea qualche emozione qualche qualche suggestione che può veramente cambiare cambiare la nostra vita adesso voglio fare mantenere la mia promessa siamo in orario e ti voglio voglio condividere con te quello che puoi fare da ora in avanti per continuare questo bellissimo viaggio dentro la tua casa dentro la tua vita per una trasformazione duratura nel tempo quindi il consiglio che mi sento di darti è di visitare il sito casa in armonia dove troverai tantissimi consigli pratici seguire i nostri canali social webinar gratuiti blog e organizziamo corsi il libro i segreti dell'habitat felice che è questo è un libro che anche se è finito nelle classifiche bestseller su amazon nella materia e nella disciplina del feng shui in realtà non è un libro di feng shui o solo di feng shui è un libro come ho detto all'inizio che parla della nostra felicità della nostra salute di quella che ognuno di noi merita e e che possiamo cambiare e migliorare ogni giorno inoltre hai la possibilità di avere delle consulenze professionali dei progetti e ora ci sono delle grandissime opportunità legate alle manutenzioni agli incentivi 110% che stiamo aspettando stiamo alla porta ad aspettare che diventi tutto definitivo e attuativo ancora siamo nella fase preliminare e ci sono delle grandissime opportunità per fare cosa per migliorare il nostro comfort nella nostra casa per ridurre le nostre bollette con l'efficienza con l'eco bonus quindi efficienza energetica ma anche migliorare la nostra sicurezza la sicurezza delle strutture con il sisma bonus quindi detrazioni fiscali fino al 110% cosa che non era mai successo prima e infine le consulenze feng shui per chi vuole anche questo tipo di servizio ti ringrazio per essere stato qui fino alla fine e ti auguro il meglio per te e per la tua vita e mi auguro che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni grazie 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 a tutti grazie a tutti